Due amici balbuzienti stanno in giro a fare una passeggiata e uno dice all'altro senti, volemo far una gara a chi chi arriva primo al tabaccaio a comprare le sigarette e a tornare e quest'altro gli fa, sì sì sì, dai, famola, vai prima tu, pronto? cronometro pronto via parte il primo arriva dal tabacchi un pacchetto di malboro e il tabacchi prego signore grazie e torna dall'amico allora l'amico gli fa bravo 90 secondi vado io cronometrami e l'amico uno due tre e via parte quest'altro arriva dal tabacchi un pacchetto di camel e il tabacchi dure o morbide ma rimortacci tua